perché dopo aver visitato il Taiwan, la Russia, ritorniamo in qualche modo a casa nostra, nel cuore della Barbagia. Quando si parla della Sardegna, in tutto il mondo la nostra isola si racconta attraverso un canto. Sono quattro le voci che si intrecciano e che regalano una musica che ci dà la possibilità di chiudere gli occhi e di immaginare una Sardegna in bianco e nero, la Sardegna che abbiamo ereditato dai nostri genitori, dai nostri nonni. Anche l'UNESCO ha riconosciuto il canto a tenore quale patrimonio dell'umanità. E loro, come dicevo all'inizio di questa serata, sono dei validi rappresentanti perché arrivano da un paese dove il cuore delle tradizioni popolari batte più forte. Orgosolo è un respiro di una Sardegna autentica, di una Sardegna dove vive quell'orgoglio e quell'identità che si respira più che altrove. L'applauso per il tenore Orgolesu. Ben trovati anche a voi i costumi, in questo caso l'abito tradizionale, uno dei più belli dell'isola, ci riportano in qualche modo a casa dopo aver viaggiato attraverso il mondo. In apertura uno saludo dove i versi regalano a Monti appunto una poesia di benvenuto e poi un passaggio attraverso canto dopo canto molto importante. Perché era il 27 giugno del 1969, quando a Orgosolo, attraverso dei manifesti affisti sui muri, si invitavano gli allevatori che avevano il bestiame nelle terre di Pratobello a lasciare appunto quelle terre, a trasferirsi altrove per oltre due mesi. Perché lì si doveva allestire un poligono militare dedicato alle esercitazioni dell'esercito italiano. La popolazione dopo qualche settimana si ribellò a quanto doveva accadere e decise in modo pacifico di portare avanti una vera e propria rivoluzione. Furono tutti gli abitanti di Orgosolo coinvolti in quella marcia pacifica. Occuparono le terre di Pratobello non ci fu nessunissimo atto violento, ma la loro determinazione, il coraggio del popolo di Orgosolo dopo poco tempo diede la possibilità di liberare quelle terre. E loro in occasione dei 50 anni della liberazione di Pratobello vogliono intrecciare i versi di un poeta, i versi di Peppino Marotto per raccontare attraverso la poesia così successo tanti anni fa. E quando si parla di Orgosolo davvero si accende una luce positiva sul fascino della nostra isola che si racconta attraverso le sue tradizioni. Spegniamo le voci e accendiamo il canto. L'applauso per il tenore orgoleso. Spegniamo le voci e accendiamo il canto. Spegniamo le voci e accendiamo il canto. Am, 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 am. Da e toto e costumese e colore, Sardin, America, Russia e Oriente, E salutamos, chissà, nostra armonia, Cantannos, quinta, Cantannos, quinta, Cantannos, quinta, Cantannos, quinta, E monti e vestas a su folclore, E orgoso las que ero fido. Presente, mamma, am, am, am. Oh, ah, orcos los que ero fido. Oh, presente, mamma, am, am. Un tento di saluda da amada zente, Zapanela e sug antigo. Oh, ah, que no. Oh, esa bandera es la antiga que no. Da e toto e costumese, Am, ah, qui no. Am, a, qui no. Am, a, qui no. Pineda non ha gardato, a pineda non ha gardato, a pineda non ha gardato, Amora nintesi esposa, ite bella e curiosa, estorra pantamala, estorra pantamala, estorra pantamala. Pineda non ha gardato, a pineda non ha gardato, estorra pantamala, 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 estorra e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.